Benvenuto Felix, che sorpresa! Grazie, ciao a tutti, ciao! Allora... Lo so, sono irricoroscibile, lo so. Comunque, innanzitutto oggi sarò molto gentile con te, perché ho già detto prima che devono tutti vedere se le avviate perché sei una simpatia... Il solito è vero così simpatica, grazie a Ville, grazie a Ville, dividerato, sono sicuro. Però ti dico, hai fatto un lavoro straordinario, su Celebrity Hunted ci siamo innamorati di te, oltre al resto con una strategia hai dimostrato un'ironia incredibile, vogliamo fare altri progetti con te che non possiamo ancora annunciare. Io devo sapere che hai ricercato. Che non possiamo ancora annunciare, però la cosa di cui siamo più fieri è che tu sia un pioniere, perché sei il primo social brand ambassador per Amazon Prime Video in Europa. Quindi, cosa farai per noi? E studieremo tutte... Diciamo che il primo obiettivo è quello di spiegare alle persone come funziona Amazon Prime Video, perché la verità è che ad oggi la piattaforma non si sa ancora come funziona, se hai Prime per le spedizioni è incluso Prime Video, quindi cerchiamo di alfabetizzare, diciamo. E poi, ogni mese, Fedez avrà la possibilità di postare un video, di cui questo è un esempio. quindi noi ci siamo divertiti tantissimo a rapirlo per due giorni, registrare tantissimi video, ma la cosa bella è che anche lui stesso sarà produttore di questi video, quindi ne farà alcuni di sua creatività e produzione. quindi avete un anno di appuntamenti di Prime Video, ma anche un anno di post e di video grazie a... Di creatività, diciamo, esatto. Sì. Com'è un'altra cosa? E un'altra cosa rispetto, diciamo, alle mie esperienze progresse, io ho avuto un'esperienza lunga e devo dire che le riunioni creative rispetto a come andare a comunicare i progetti sono molto diverse, in positivo, ovviamente. E, diciamo, i progotti che stiamo andando a fare, che abbiamo fatto, sono, secondo me, di una delogimilanza, però ovviamente sono di parte, ed è giusto che lo dici, però a volte mi è capitato di non pensare poi, diciamo. Lui dice sempre quello che pensa... Lui dice sempre quello che pensa e gli era pensato bene di postare, il video e di ringraziare Jeff Bezos. Morale, ci sono 500 post di gente che taglia Jeff Bezos. No, per dire questo... Sperando che risponda. Va bene. Senti, ti ringrazio tantissimo. A voi. Ti do un bacio e... Ti prego di restare con me per ringraziare Jeff Soki, con cui dopo farai una splendida foto e sicuramente anche una cena stasera. e poi c'è James Farrell, Georgia Brown, e poi ringraziamo Fedez, ringraziamo Carlo Verdone, ringraziamo Carlo Cacco, ringraziamo Tiziano Ferro, ringraziamo Aurelio Elvigi De Laurentiis, ringraziamo Dante Sollazzo, ringraziamo Lorenzo Mieli, ringraziamo Fabrizio Ievolella e Francesco Labber. Spero di non essere qui dimenticati di nulla. Qualsiasi informazione relativa a questo evento, cioè il nostro team di PR, è stato un piacere avervi. Appuntamento alla preghiera di Celebrity Hunted, 9 marzo, qui a Loma, ci sarà anche lui. Esatto, ciao. Applausi 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 Applausi